Rieccoci e ben ritrovati per questa nuova edizione di Spazio Notizia che apriamo parlando della crisi idrica, una crisi che sta affrontando la Sicilia, allora l'autorità di Bacino ha posto una precisa richiesta ai gestori delle dighe, bisogna trasferire la fauna ittica per poter utilizzare le risorse idriche, ma per i dettagli vediamo il servizio. Consentire un utilizzo massimale delle risorse idriche disponibili negli invasi, evitando al tempo stesso la moria della fauna ittica presente al loro interno. Con questo obiettivo l'autorità di Bacino della Presidenza della Regione si rivolge ai gestori delle dighe della Sicilia, invitandoli ad attivare un attento monitoraggio e predisporre un celebre trasferimento dei pesci. La disposizione nasce dalla considerazione del progressivo svuotamento degli invasi che rende necessario l'utilizzo dei cosiddetti volumi morti, che però non può essere effettuato in presenza della fauna ittica che attualmente popola le dighe. Ecco perché, così come prevede la legge, è necessario il trasferimento alla luce dell'inalzamento delle temperature che causa la moria della fauna e determina quindi l'inutilizzabilità dell'acqua a fini potabili. Per utilizzare anche le risorse idriche residue, l'autorità di Bacino chiede ai gestori di adeguare i propri sistemi di prelievo utilizzando, se è il caso, piattaforme galleggianti in grado di consentire l'utilizzo delle risorse idriche. Continuiamo a parlare di emergenza siccità, ci soffermiamo però sul settore agricolo, uno di quelli maggiormente colpiti da questa grave crisi idrica. Allora dalla Regione siciliana un nuovo intervento, 15 milioni di euro destinati proprio all'agricoltura. Le parole del governatore Renato Schifani che parla di misure di sostegno concrete che vanno oltre l'emergenza. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. La Commissione Attività Produttive di Palazzo dei Normanni, alla presenza dell'assessore all'agricoltura Salvatore Barbagallo, ha dato parere favorevole all'avviso pubblico firmato dal dirigente generale del Dipartimento Dario Cartabellotta che stabilisce le modalità di attuazione della norma. Le risorse, 15 milioni in tutto, saranno destinate all'80% alle istanze degli imprenditori agricoli, anche in forma associata, e al 20% ai comuni. È un aiuto concreto ad agricoltori ed enti locali siciliani, dice il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, in un momento di grave difficoltà per la persistente siccità. Ma la razio del provvedimento va oltre, creando i presupposti affinché in futuro non si arrivi più a questo punto. Per questo il mio governo, oltre a lavorare pancia a terra per contenere l'emergenza, sta mettendo a punto le misure più idonee per farci trovare pronti in occasione di nuovi eventi estremi. I pozzi e gli impianti di raccolta e di accumulo di acqua che saranno finanziati serviranno infatti anche per eventuali future crisi alle quali dovremo far fronte, visto l'ormai conclamato cambiamento climatico. Possono essere finanziati gli interventi di captazione, raccolta e stoccaggio delle acque per uso agricolo e zootecnico, di costruzione di nuove vasche e serbatoi per la raccolta d'acqua, di realizzazione di nuovi pozzi o per il miglioramento di quelli esistenti. Sarà possibile coprire in ossequio ai regolamenti dell'Unione Europea l'80% degli interventi realizzati dagli agricoltori e il 100% di quelli degli enti pubblici. Da un'emergenza attuale a un'altra che potrebbe riproporsi dopo la scorsa estate, ovvero quella legata agli incendi. Allora l'assessore regionale Savarino vuole verificare la possibilità di una possibile collaborazione con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari. L'obiettivo chiaramente è effettuare prevenzione sugli incendi per evitare quanto avvenuto, come detto, la scorsa estate. Vediamo il servizio. Ho chiesto al comandante del nostro Corpo Forestale, Giuseppe Battaglia, di avviare un'interlocuzione per verificare la possibilità di una collaborazione con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari nella prevenzione e nella repressione degli incendi in Sicilia. Lo ha dichiarato l'assessore regionale al territorio e ambiente, Giuseppe Savarino, che ha aggiunto. Un eventuale supporto di questo Corpo Speciale dell'Arma dei Carabinieri andrebbe ad affiancare il sistema di rilevamento anche satellitare già attivo in Sicilia, al quale presto si aggiungerà la Control Room, la sala operativa unica regionale che si avvarrà del sostegno dell'azienda statale Leonardo specializzata in tecnologie aerospaziali. Un progetto finanziato con i fondi del PON Legalità che utilizzerà sistemi satellitari all'avanguardia in grado di superare le criticità di quelli utilizzati attualmente nell'intero territorio nazionale, grazie alla sinergia tra il Presidente della Regione, Renato Schifani, e il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha concluso l'assessore Savarino. Giornata o meglio serata importantissima a Castiglione di Sicilia, uno dei borghi più belli d'Italia. Stanotte la quinta edizione della Notte Sacra, un evento che verrà impreziosito quest'anno dalla presenza della reliquia del velo di Sant'Agata proveniente dalla Cattedrale di Catania, ma per i dettagli vediamo il servizio. Castiglione di Sicilia, uno dei borghi più belli d'Italia, si prepara a vivere una giornata di straordinaria spiritualità con la quinta edizione della Notte Sacra. Questo evento unico sarà un incontro di arte, musica e preghiera arricchito da significativi messaggi ispirati alla testimonianza di Sant'Agata, Vergine e Martire. Quest'anno la manifestazione sarà impreziosita dall'arrivo della reliquia del velo di Sant'Agata proveniente dalla Cattedrale di Catania. Sant'Agata sarà celebrata come esempio di virtù e di fortezza. Le chiese, i vicoli e le piazze di Castiglione di Sicilia forniranno uno scenario suggestivo per una notte illuminata da un messaggio di speranza. L'obiettivo, ha dichiarato il parroco, Don Orazio Greco, è vivere insieme un'esperienza di fede e devozione. Sarà un momento di spiritualità e comunione per testimoniare l'amore vero. Da Castiglione di Sicilia a Isola Bella, un'altra delle bellezze della nostra Sicilia, metà gettonata dai turisti di tutto il mondo. Siamo chiaramente nel territorio di Taormina. Vi mostriamo però delle splendide immagini dei fondali di Isola Bella, immagini girate dal sub Nino Luca. Davvero colori e immagini meravigliose. A Isola Bella il mare dà sempre spettacolo. In questi giorni, durante i quali i bagnanti hanno invaso la baia simbolo di Taormina, la fauna continua a vivere i fondali di uno specchio di mare unico in tutto il Mediterraneo. Il sub del calibro di Nino Luca, esperto conoscitore di tutti gli anfratti di Isola Bella, ha carpito immagini che fanno percepire come l'uomo possa conciliarsi con la natura e i suoi abitanti. Uno spettacolo dunque vero e irripetibile, come quello della mano del sub alla quale si attacca un per nulla impaurito polpo, abitante di uno scenario fantastico tra murene, coralli e scorci dai colori azzurri con tonalità decisamente particolari, che fanno del fondo marino taorminese uno scenario fiabbesco. Importante finanziamento per il comune di Gangi, siamo nel Palermitano, oltre 3 milioni di euro per la trasformazione dell'ex carcere in una casa delle farfalle viventi. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Il comune di Gangi ha ottenuto il finanziamento da parte della regione, assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana, attraverso il programma di azione e coesione complementare sviluppo urbano sostenibile per la trasformazione dell'ex carcere mandamentale in museo ambientale con la realizzazione della casa delle farfalle. Il progetto, che costerà 3 milioni e 100 mila euro, 10% a carico del comune, era già inserito in graduatoria e dovrà essere realizzato entro il 31 dicembre del 2026. Il progetto dell'opera, a firma dell'architetto Maria Alessandro, prevede la trasformazione delle 12 celle dei detenuti in camere d'albergo e la realizzazione di una foresteria e una sala mensa per le scolaresche e per gli ospiti dell'albergo. Le farfalle, invece, troveranno posto negli spazi esterni all'interno di apposite voliere in un habitat ideale appositamente realizzato. È prevista anche la realizzazione di un parcheggio che sarà ubicato fuori dalla cinta muraria. L'ex carcere mandamentale di massima sicurezza, ha dichiarato il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, era un'opera costata qualche miliardo delle vecchie lire e mai collaudata, di proprietà del Ministero di Grazie e Giustizia fino al 1997, quando il comune ne ha rivendicato la proprietà e da allora la struttura è stata destinata ad associazioni culturali e di volontariato del territorio. Poi l'idea di trasformarlo in casa delle farfalle viventi, la sua riconversione, sarà sicuramente uno degli attrattori turistici del nostro borgo. Sin da subito, ha concluso il sindaco, ho dato disposizione agli uffici di attivarsi per le procedure di gara. Parliamo adesso di alimentazione, ma un'alimentazione corretta in estate, soprattutto in un periodo così caldo. È importante chiaramente bere tanta acqua, ma è importante anche mangiare alcune tipologie di cibo che permettono una idratazione costante. Allora, vediamo qualche utile consiglio. In estate è fondamentale l'idratazione, ad esempio come rimedio ai colpi di calore improvvisi e abbassamenti di pressione. È errato però pensare che l'acqua introdotta nell'organismo sia soltanto quella del bicchiere. Gran parte, infatti, proviene proprio da una sana ed equilibrata alimentazione. Sono molti i cibi che contengono una percentuale elevata di liquidi, oppure ne assorbono quantità notevoli, come i semi di chia, aiutando a raggiungere i corretti livelli di idratazione. Ecco una selezione dei top food grazie ai quali si può alimentare la propria idratazione. Verde e dalle svariate forme, il cetriolo è costituito al 96% da acqua ed è ricco di vitamina C, amminoacidi e sali minerali. Diuretico e rinfrescante e ottimo non solo per il benessere del corpo, ma anche come rigenerante della pelle. Sinonimo d'estate è anche il pomodoro, fonte di vitamina A e C, con una percentuale del 94% di acqua. La coppia più fresca dell'estate è invece composta dall'anguria e dal melone, la combo estiva che non può mancare in casa. Dolci, gustosi e composti da circa il 90% di acqua. Questi frutti estivi, ricchi di vitamine A, C, B e B6 e fonte naturale di potassio e magnesio, sono gli alleati ideali per combattere il senso di spossatezza tipico della stagione. Mai dimenticarsi però delle proteine fondamentali anche in estate. In questa stagione è consigliabile prediligere le carni bianche come il pollo e il tacchino, che oltre a essere facilmente digeribili, sono un concentrato di sodio, potassio, magnesio e ferro. Unite a una fonte di carboidrati e verdure, le carni bianche danno vita a un piatto bilanciato, completo e nutriente. Ma l'estate chiama anche il pesce. Filetto di branzino, nasello o alici sono l'ideale per creare primi e secondi a prova di chef. E per finire le proposte vegetali. Tofu, seitan o mini burger di legumi sono la scelta ideale per vegetariani e vegani o per chi desidera variare la propria alimentazione con alternative plant-based. Donazione di organi, buone notizie per l'Italia e il nostro paese al secondo posto in Europa. Nel 2023 l'Italia è salita al secondo posto tra i principali paesi europei per quanto riguarda la donazione degli organi. Il tasso raggiunto è stato di 28,2 donatori a ogni milione di abitanti, dietro alla Spagna, leader mondiale, ma davanti a Francia, Regno Unito e Germania. A confermare il risultato è l'ultimo report analitico dell'attività annuale della Rete Nazionale Trapianti pubblicato sul sito del Centro Nazionale Trapianti. Il report, che approfondisce i dati preliminari pubblicati nel gennaio scorso, conferma che il 2023 è stato l'anno migliore di sempre per donatori segnalati, donatori utilizzati e trapianti effettuati. Di questi, 198 sono stati realizzati attraverso programmi di urgenza nazionale, mentre 197 trapianti hanno riguardato pazienti pediatrici. Particolarmente numerosi i trapianti da donatori a cuore fermo sono stati 444, il doppio dell'anno precedente. La crescita complessiva dell'attività di donazione e trapianto si è tradotta in un leggero calo del numero di pazienti in attesa di ricevere un organo. Al 31 dicembre 2023 erano 7.941, di cui il 76% aspettava un rene, contro gli 8.112 di fine 2022. Per quanto riguarda invece l'attività di prelievo degli organi, sono stati 221 gli ospedali nei quali è stata realizzata una donazione di organi nel 2023. Infine, quest'anno è presente anche un focus sui trapianti sperimentali di microbiota intestinale, un programma che al 31 dicembre 2023 ha visto la realizzazione di 214 interventi in 10 centri autorizzati in tutta Italia. Ci fermiamo qui ma ci ritroviamo più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Grazie a tutti.